let's go baby venite tutti in streaming per la streaming di compleanno ho preso delle cose speciali che non so come funzionano c'ho scritto solo di stare attenti con queste cose li proveremo in streaming perché perché a mezzanotte compierò ben 24 anni mi sto avvicinando in questo caso ad un quarto di secolo ma perché ho deciso di fare una streaming di compleanno invece di festeggiare perché lunedì e sapete perché perché la gente prima di tutto lunedì sera non esce i locali sono chiusi poi cosa il sabato sera uno si è sfasciato ha fatto tardi quindi cosa fa la domenica dorme fino a tardi poi però la domenica non vai a letto presto perché ovviamente hai dormito tanto ti sei riposato ti sei ripreso di tutta la settimana le energie e il giorno dopo cosa fa ti devi svegliare presto perché c'è lavoro o hai scuola o quello che uno deve fare quindi si finisce che lunedì sera non si esce quindi let's go baby facciamo questa streaming di compleanno assieme let's go